Amici di Yant.it buongiorno e un buongiorno a tre personaggi. Oggi è una data storica per Yant anche perché mettere insieme tre sindaci, anche perché il divano porta tre posti non di più, abbiamo i rappresentanti di Monsampolo, Monteprandone e Acquaiva. Stefano Stracci, Monteprandone, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie Carlo. Pier Paolo Rosetti, sindaco di Acquavia, buongiorno sindaco. Buongiorno. E Pierluigi Caioni, sindaco di Monsampolo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Carlo. Buongiorno al presidente, giusto? Allora, a parte gli scherzi, nel corso degli anni sono sempre prevenuti alla spicciolata, però anche altri assessori che rappresentano le loro amministrazioni, però era giusto, visto che stiamo a fine anno, fare un discorso così, diciamo di riepilogo dell'anno, di quelli che sono gli eventi fatti, che danno un po' lustro ai vostri comuni e anche quelli che sono i propositi del 2017, anche se c'è un dato eclatante, prima ne parlavo con qualcuno di voi, che la provincia di Ascoli è scesa sotto l'indice nazionale per quanto riguarda poi la vivibilità, mi pare di una ventuna di posti. Che ne pensate? Partiamo da questo dato. Rosetti. Si tratta ovviamente di indagini statistiche, quindi poi dipende anche dai parametri che vengono utilizzati. Sicuramente è un territorio che vive in questo momento delle difficoltà evidenti anche in conseguenza degli eventi del terremoto, però probabilmente la situazione non è poi così negativa come può trasparire dai dati. C'è possibilità sicuramente di ripartire, è importante operare nel modo più celere possibile. Ecco, per quanto riguarda questo 2016 lo possiamo sempre archiviare in maniera positiva, almeno anche perché Acquavia, come gli altri comuni, si caratterizza per degli eventi che sono un po' storici. Lo chiudiamo sempre con una valutazione positiva, se non altro per il fatto che comunque è trascorso un anno caratterizzato da particolari difficoltà e lo abbiamo superato portando dei risultati a casa molto importanti. Certo, il terremoto in chiusura del periodo estivo ha condizionato alcune manifestazioni, alcuni eventi perché la paura ovviamente ha portato un allontanamento dei turisti. Sarà un periodo un po' difficile ma poi sicuramente ci riprenderemo perché il territorio ha le risorse, le ricchezze e le capacità per farlo. Per il 2017 sentiamo la seconda parte, adesso sentiamo subito alla tua sinistra Cajoni e su questo dato che diceva il sindaco, tuo collega, insomma è un dato statistico però bisogna un po' valutare altre cose. Carlo, intanto te do uno scoop, noi siamo diventati Unione dei Comuni Piceni proprio facendo riferimento a tre comuni proprio in funzione del tuo divano. E sappiamo che era tre posti e quindi non potevamo assolutamente farla più grande. E poi venendo invece alle cose più serie, diciamo che è stato un anno che noi vogliamo concludere in maniera ottimistica. Positivo è una parola un po' forte da dire proprio a causa della tragedia di quest'estate anche perché ha segnato notevolmente non solo il territorio della provincia di Ascoli oltre a quello della provincia di Rieti ma nei nostri cuori un po' tutta la vallata e dico forse anche tutta Italia. Per quanto ci riguarda i nostri comuni hanno subito anche loro dei danni quindi di fatto ci troviamo ad affrontare delle situazioni che sono senz'altro meno gravose di quelle, molto meno gravose di quelle dei comuni più colpiti come facendo riferimento alla nostra provincia Arquata e Acquasanta e così via ma devo dire che anche noi abbiamo, si stiamo leccando le nostre ferite in qualche modo. Un esempio per tutti nel mio comune oltre ad avere lesioni in alcune abitazioni che sono state chiarate già inagibili abbiamo dei grossi danni all'ex convento di San Francesco che era un po' il nostro punto focale per il centro storico in quanto avevamo lì riposto tutte le nostre attenzioni per quanto riguardava il turismo quindi abbiamo messo lì il punto di informazione turistica, abbiamo lì i posti storici, la location dove poi fare gli nostri eventi estivi e quindi diciamo che vogliamo dare un segnale comunque positivo, ottimistico perché noi dobbiamo essere ottimisti, noi siamo i sindaci, rappresentiamo un pochettino quello che vuole essere il nostro territorio e dobbiamo dare un segnale che sia positivo perché vogliamo che il nostro territorio riparta Per quanto riguarda quello che dicevi non c'è dubbio che non posso essere d'accordo su quelli che sono i dati di una mera statistica sono banali numeri, io invito invece tutti a venire nei nostri territori che sono meravigliosi e sfido chiunque, chiunque a venire nei nostri territori e a dire che non si sta benissimo, che non si vive benissimo, che non si mangia benissimo, che non si ha una qualità della vita a mio avviso eccellente quindi mi sembra davvero... Ottime parole, grazie Confermo anche io. Chiudiamo questa prima parentesi con Stracci Monteprandone, già ospite di Massimo Narcisi per il Marcuzzo ecco diciamo un riepilogo anche per il tuo comune e anche su questo dato che ne pensavi? Sì Carlo, come hanno detto i miei colleghi, anch'io voglio essere ottimista quindi spero che il 2017 sia un anno migliore perché il 2016 in realtà è stato un anno orribile per questo nostro territorio il terremoto è stato già ricordato, ha già fiaccato ulteriormente un tessuto produttivo che era già stato provato dalla crisi e quindi noi dobbiamo a mio avviso leggere queste statistiche non soltanto dal punto di vista degli indicatori edonistici cioè si mangia bene ed è vero, si sta bene ed è vero, abbiamo un territorio che offre tante peculiarità e questo ce lo riconoscono un po' dappertutto però non bisogna anche dimenticare che la crisi ha lasciato degli strascici ancora da recuperare penso al problema del reddito, noi abbiamo avuto in questi anni uno scivolamento verso il basso del reddito che ha portato tante famiglie picene sotto la soglia della povertà e io credo che tra gli indicatori che più hanno inciso rispetto a questa statistica che condivido con il pensiero di Berluigi è una statistica da leggere, da approfondire perché i numeri spesso non descrivono la realtà ma siccome bisogna però anche guardare i dati più oggettivi cioè quelli per esempio del PIL pro capite, noi abbiamo avuto un abbassamento del PIL pro capite abbiamo avuto un aumento in questi anni della disoccupazione giovanile e abbiamo a fronte di un territorio che offre al mondo del lavoro professionalità, giovani laureati abbiamo difficoltà ad assorbirle nel nostro territorio la provincia di Ascoli purtroppo è una delle province dove è più forte la fuga di cervelli verso l'estero e quindi dobbiamo cercare di invertire questa rotta io sono abbastanza schietto nell'analizzare questi dati ma da amministratore non posso però che pensare che il nostro compito non è descrivere i dati ma cercare di cambiare le cose e quindi nel prossimo anno dovremmo cercare di uscire definitivamente da questa fase di difficoltà determinata dal terremoto come è stato detto per fortuna noi non siamo comuni dentro il cratere ma anche i nostri danni non sono come dire irrilevanti perché Monteprandone ha un municipio inagibile la chiesa collegiata non è stata ancora riaperta diciamo tutte le parti storiche dei paesi hanno subito danni il centro storico è stato danneggiato seppur non in maniera diciamo drammatica e clamorosa ma quando un edificio viene lesionato seppur minimamente quell'edificio non può essere più utilizzato allora il proposito qual è? è quello di far diventare questa tragedia qual è stato il terremoto in una grande opportunità di rilancio e di rinascita di questo nostro territorio e se siamo bravi e se i comuni sapranno fare la loro parte io sono convinto che possiamo uscire migliori da questo momento di crisi tra l'altro piccolo inciso seppur nel momento anche di instabilità politica determinata da un accordo del governo da un nuovo governo che dovrà riaffrontare i dossier come dire che erano stati propri del precedente presidente del consiglio una fortuna ci è capitata quella di avere un presidente del consiglio che è originario di Tolentino che è una città fortemente colpita dal terremoto e che quindi avrà sicuramente un occhio di riguardo un occhio di riguardo nella sua agenda sono convinto che il terremoto sarà al primo posto ecco ripartiamo da te la seconda tranche per questo 2017 ci puoi anticipare qualcosa sul quale stai lavorando insieme ai tuoi colleghi? ma noi abbiamo fatto proprio in queste settimane un giro nei quartieri per raccogliere un po' le priorità da mettere nel bilancio quindi abbiamo fatto partecipare i cittadini alla formazione dell'agenda amministrativa del 2017 le richieste riguardano principalmente il decoro urbano e il rifacimento di diverse arterie viarie in particolare quelle della zona industriale che seppur non sono di competenza del comune avranno bisogno di una particolare manutenzione e poi alcuni grandi progetti che stanno già partendo il primo è l'asilo nido noi stiamo costruendo un asilo nido per 120 bambini sarà un asilo nido ovviamente che avrà una vocazione comprensoriale perché ha dimensioni per poter servire anche i comuni vicini con un investimento di 3 milioni di euro coperti da un finanziamento dell'Inail quindi una forma anche particolare di finanziamento ci sarà la rigenerazione completa della scuola media con la costruzione di una nuova palestra e poi andrà a buon fine spero nelle prossime settimane anche l'accordo di programma per la realizzazione della piscina e poi altre opere di recupero di restauro ma ovviamente ci vorrebbe ben più tempo per descrivere un anno amministrativo che sarà sicuramente molto denso grazie sentiamo Rosetti e poi chiudiamo con Caglioni allora sto 2017 hai qualcosa di impellente sul quale stai lavorando? è un 2017 Acquaviva è particolare come anno perché si va ad elezioni quindi è sicuramente un anno determinante pieno di impegni che già iniziano da adesso vengono da qualche mese perché si vanno concretizzando progetti che abbiamo messo in campo in questi 4 anni e mezzo di mandato uno in particolare è quello che riguarda la scuola la scuola che nel caso di Acquaviva ha subito purtroppo le conseguenze del terremoto che hanno inciso su una struttura di per sé molto vecchia e quindi in questo caso devo ringraziare i due sindaci i due colleghi che ti hanno messo a disposizione che mi hanno messo a disposizione e questa è anche la testimonianza dell'efficacia di un progetto come quello di sinergia dei comuni perché nel cielo di due telefonate abbiamo trovato una sistemazione adeguata adeguata anche dir poco perché Monte Vrandone e Monsampolo hanno uno scuola già su cui avevano investito da tempo hanno fatto un percorso che ad Acquaviva invece era mancato negli anni precedenti quindi ha senso l'importanza di collaborare di cooperare con i territori vicini quindi il progetto più grande su cui stiamo lavorando è quello della scuola per cui già Acquaviva era stata inserita nella programmazione triennale con un finanziamento di 932 mila euro ovviamente adesso si apre un discorso diverso perché il terremoto ha inciso su quella struttura cambiando la realtà peggiorandola e ovviamente c'è poi il canale adesso della ricostruzione che verrà avviato su cui stanno lavorando celermente proprio sulle scuole dichiarate inagibili si avvierà poi anno nuovo la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione al termine di una procedura di gara che è durata un po' perché oggi è anche un progetto consistente economicamente trovare un partner è stato difficile quindi questo però era un altro impegno dell'amministrazione quindi stiamo tornando dai cittadini non è mai mancato il colloquio con la cittadinanza però adesso si sta intensificando per ovvi motivi perché si tratta ora di programmare anche i prossimi cinque anni e portare a compimento tutta una serie di progetti che abbiamo messo in campo non da ultimo quello sugli impianti sportivi che adesso ovviamente si muove di pari passo con la scuola Grazie Rosetti Caioni per chiudere 2017 2017 è un anno importante impegnativo forse proprio a causa del 2016 così disgraziato ci vede impegnati in alcune situazioni che sono anche alcune scommesse una è quella del tentativo di riapertura del convento per l'estate del 2017 appunto per non far andare persa quella che era una stagione turistica che lo scorso anno aveva visto dei bei numeri e dei bei risultati sul nostro centro storico sul nostro territorio ma portiamo anche avanti altre iniziative che sono quelle ad esempio del centro di raccolta comunale che c'è stato finanziato con fondi regionali su un progetto di 200.000 euro avremo l'80% finanziato con fondi regionali poi abbiamo avremo ormai è andata a gara e quindi è stata anche giudicata proprio settimana scorsa la gara per la realizzazione del parco della stazione quindi la sistemazione di una zona diciamo antistante la nuova stazione all'interno del centro abitato di Stella stiamo completando i lavori del campetto polifunzionale nel centro storico abbiamo in animo la progettazione o meglio la progettazione è già stata approvata per quanto riguarda la rotatoria sulla statale numero 4 sulla salaria all'incrocio con la via Colombo che vedrà anche nuovi parcheggi e lo sviluppo di una nuova viabilità all'interno del centro abitato abbiamo in animo di portare avanti e di concludere quello che era il progetto della messa a norma dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica sul nostro territorio stiamo portando avanti la progettazione per quanto riguarda sia il centro storico che la frazione Stella per quanto riguarda dicevo un progetto di riqualificazione urbana perché diciamo c'era un po' una situazione diciamo lasciata a quello che era il caso lo sviluppo casuale urbanistico del territorio e diciamo queste sono un po' tutte le scommesse che stiamo comunque portando avanti con mille difficoltà perché poi di fatto gli uffici comunali sono oberati di lavoro abbiamo come credo tutti gli altri comuni una sotto un numero di dipendenti sotto quello che è la la previsione la descrizione delle norme nazionali e quindi si cerca in qualche modo di portare avanti tutte queste iniziative con quello che si ha e devo ringraziare anche i nostri i nostri dipendenti che devo dire si stanno mettendo molto del loro a volte non facendo neanche caso all'orologio e questa cosa mi fa molto piacere che avvenga grazie io allora a questo punto possiamo chiudere questa puntata importante ricordo questo 13 dicembre io vi faccio gli auguri e oltre a ringraziarvi per questa presenza dandoci appuntamento a gennaio con la speranza che sto 2017 sia un po' foriero per voi e anche per noi per una crescita diciamo così cumulativa va bene buon Natale Carlo buon Natale a Radio R9 e a tutti i nostri telespettatori grazie grazie